no no ragazzi non possiamo affettare questo posto e allora andiamoci lì giù scusa guarda se noi camminiamo vicino al muro li schiacciamo sul coso del boss eh sì secondo me sì io se volete posso cercare con gli hunter boots e li tengo rusati un po' no 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 non bruciare i cd così sulla clave sul tank carico gli stack sul tank eh no fermi non me la del tank sulla clave l'argi 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 va bene così va bene così guarda la clave guarda la clave glave ha usato i soldi ai helmet eh deo root deo root glave 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 tutto sulla clave dispellata il fire shield oh c'è la demonic sono su misca sono su misca ci sono tirato l'astichi su misca faccio il root lì ora i miei tre stack il tank è morto archer 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 non ho più niente io bongo non ho più niente si si tranquillo vai intanto pushate 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 vai full push che va fu**o quanto hai misca di stack? ora uno perchè l'ho usati poco fa e me l'hanno fatti resettare ok tirali su questi tirali su questi va fu**o due tre ora vado con tutto ok guarda la clave 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 mamma mia ragazzi vogliamo il damage meter no non avete idea sto sul leader minchia resta ancora però comunque sta giocata molto male veramente l'ho detto non devi andare sul tank sta già nel bruise infatti io il tank l'ho menato dopo che si è fatto all'armatura si a quel momento eravamo sulla clave aveva 50% di hp nice